Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 31 gennaio, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata, quello più importante è l'allarme in anticipo del Premier Conte, il quale ha detto che nel quarto trimestre 2018 ci sarà probabilmente un dato negativo sul PIL, quindi dopo lo 0,1 meno del terzo trimestre, questo vorrebbe dire sempre se l'Istat confermasse questo meno 0,1 anche del quarto, recessione tecnica. Lo fa davanti alla Solombarda in cui parla il presidente della Solombarda Bonomi che ha delle parole, oggi viene intervistato dal Corriere della Sera, dure contro questo governo e fa bene ad averle, dice cose più che condivisibili. Il punto fondamentale, cioè la debolezza di tutta questa vicenda è che Bonomi ha più o meno un'azienda come ce l'ho io, insomma come il sito nicolaporro.it oppure come la tenuta Rasciatano, cioè un'azienda da 1-2 milioni di euro, cioè un'azienda, sto scherzando, ovviamente io ho dimensioni molto inferiori rispetto a Bonomi, però qualche dipendente ormai ce l'ho anch'io, cioè sostanzialmente non è una impresa rappresentativa dell'Italia quella di Bonomi. È presidente della più importante azienda, associazione imprenditoriale italiana, ha sconfitto un signore che si chiama Vacchi, che aveva Lima, leader mondiale nella produzione di quelle bustine per fare il tè, e questo signore che dice anche delle cose giuste, ahimè ha un problema, che è quello che in Assolombarda, in Confindustria, ci stanno soltanto uomini che creano un ruolo politico, quindi un coltronaltare al governo, più che una loro sostanza imprenditoriale. E questo ne rende purtroppo un pochino debole la posizione. È come dire che è un altro modo di far politica, la puoi fare nel Parlamento facendoti eleggere, oppure la puoi fare in Assolombarda, la puoi fare all'Unione Industriale di Roma, la puoi fare insomma nelle stanze della Confindustria, eleggendoti indipendentemente dal fatto che tu abbia più o meno un'impresa. E questo è, diciamo, il virus di questa nostra associazione datoriale. Nel frattempo le cose non vanno bene in tutta Europa, in Germania la crescita del PIL è stata ridotta dal governo dall'1,8% all'1%. Allora, buongiorno Stefano, mi chiedo come cavolo è possibile che la Germania, la prima economia europea alla quale noi siamo strettamente legati, riduca dall'1,8% all'1% la sua crescita e noi rimaniamo lì imperterriti credendo, caro Presidente Conte, che si cresca come previsto nei tuoi documenti, più dell'1%. Insomma, è chiaro che è una follia. Nel frattempo sono state fatte le aste, questo forse è l'unico dato positivo sui titoli di Stato, pagina 25 del Sole 24 Ore, mi sembra che sia l'unico che lo pubblica l'andamento delle aste, e beh, i BTP a 5 anni sono scesi all'1,49%, a 10 anni al 2,60%. Qualcuno di voi mi contestava ieri in posta dicendo, beh, comunque sono tassi elevati, sì, sono tassi elevati, sono superiori ad altri paesi, sono di poco inferiori a quelli della Grecia, quello che volete voi, ma stiamo parlando di una situazione di tassi di interesse comunque ridottissimi e comunque simili, se non uguali a quelli di aprile, in cui ancora non c'erano i grillozzi. Quindi, tutto sommato, rispondono al rischio paese, non al rischio politiche economiche disastrose fatte da questo governo. Chiaro? La seconda vicenda riguarda il processo Salvini, cioè per la Diciotti, lì il problema non è tanto Salvini, che obiettivamente ha cambiato idea, fatemi processare, non fatemi processare, ma sui grillozzi che adesso non possono non votare sì all'autorizzazione a procedere. Gianrusso oggi fa un'intervista che sembra un democristiano, l'avvocato, uno degli 11 componenti della giunta per le autorizzazioni a procedere, l'avvocato Gianrusso, leggetevi l'intervista, mi sembra un democristiano in cui si dice nulla. Travaglio, invece, più che democristiano, fa come al suo solito, tu fai così e lui indica il dito invece che la luna. Il dito, secondo lui, di tutta questa vicenda è che il PD voterà per l'autorizzazione a procedere nei confronti dei grillozzi, mentre nel passato non ha votato sempre l'autorizzazione a procedere a delinquenti secondo Travaglio mostruosi. Vabbè, certo, le contraddizioni del PD sono straordinarie, ma mi sembra che qua il tema non siano le contraddizioni dei 4-5 commissari del PD, ma le eventuali contraddizioni di un governo che ha guida Grillo-Verde e in questa guida Grillo-Verde sono tutti in imbarazzo nel fare la cosa più semplice possibile. I grillozzi hanno sempre votato sì alle autorizzazioni a procedere, compreso nei confronti, mi sembra, di Gianrusso. Beh, insomma, non vedo per quale motivo al mondo questi non debbano votare. Sì, altra contraddizione, se volete, è la buongiorno ministro di questa Repubblica e eletta con la Lega, fu l'avvocatina, perché ovviamente non era l'avvocato importante, di Andreotti che nel 1993 chiese di essere processato proprio nell'aggiunta delle autorizzazioni a procedere. Quindi, insomma, stiamo parlando di mille contraddizioni, se volete, ma invece soltanto il PD interessa a Travaglio, il che è legittimo, sono talmente dei cazzoni, voglio dire, adesso si parla di queste inutili primarie, che io non ho nessun interesse nel difendervi, ma tutto sommato non mi sembra questo il punto fondamentale, buon per lui e per i suoi lettori. Sulla Sea-Watch la cosa che sta facendo questo governo è davvero paraculetta, perché cosa fa? Vuole farli sbarcare a Catania, dove c'è un procuratore, Zuccaro, che mi sembra che sulle immigrazioni abbia un principio completamente diverso rispetto agli altri magistrati di magistratura democratica. Zuccaro vuole e pensa che ci sia un traffico mal gestito tra ONG e trafficanti di uomini, farle sbarcare là potrebbe permettere di fare l'unica cosa sacrosanta, e cioè che la Sea-Watch non ci rompa più le balle. La Sea-Watch deve fare, non andare a fare il traghetto per prendere persone ai confini con la Libia e portarli in Italia, mare o non mare, che è quello che ha fatto palesemente negli ultimi anni, creando per sé un palcoscenico favoloso mondiale e decidendo la nostra politica di immigrazione. Vediamo cos'altro c'è scritto. Sulla Sea-Watch il Cavaliere dice che sul processo, sulla Sea-Watch, questo governo potrebbe anche cadere, in quel caso si potrebbe fare un governo ancora, dice lui, con la Lega, io ci credo poco, e con i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, ma questo dice l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, intervistato, mi sembra, da Tito, sul Repubblica. Poi ci sono due pezzi straordinari, Padellaro e Belpietro, Padellaro, Piagnucola, perché Salvini l'altro giorno in televisione ha avuto applausi a scena aperta durante la trasmissione e il senso di Padellaro, come tutti questi qua che sono nati all'unifesto, all'unità, è ma che schifo questa gente, questi figuranti che applaudono per questa bestia, si fanno, e la rivoluzione, si fanno assetare dal sangue, insomma era disgustato, oppure con i termini di Padellaro che non sono mai quelli di, come si chiama, di travaglio. Belpietro gli dice, guardate che banalmente tutti quegli applausi c'erano, perché la gente su questa roba sta col governo e con Salvini. Mattia Feltri dedica un pezzullo, come sempre colto, intelligente, sulla stampa, sul suo buongiorno, dicendo che la destra liberale, vi leggo qua, sulla vicenda Prestigiacomo, dovrebbe avere la libertà di dire alle persone ciò che non vogliono sentire, cioè anche di andare controcorrente, figuratevi un po' voi se io non sono d'accordo con lui. Però questa cosa mi sento un po' preso in causa, perché forse riguarda anche il mio pezzo, in cui dicevo che invece non era il caso che la Prestigiacomo si mostrasse insieme a quelli che sono le icone della grande e incontrollata immigrazione, cioè l'EU e radicali. Beh, io invece penso che esattamente la libertà di dire alle persone ciò che non vogliono sentire, il tema è proprio chi sono le persone. Le persone sono sempre il popolo che fa schifo un po' a tutti noi giornalisti, o sono il popolo del nostro riferimento. Nel nostro ambiente sono tutti a favore dell'immigrazione, quindi una destra liberale intellettuale deve avere il coraggio di dire nel nostro ambiente, nei nostri selotti, nei nostri quartieri, nei nostri bar, nelle nostre redazioni, che far venire questi qua è uno scandalo, che le ONG sono criminali che rompono le regole normali di convivenza di uno Stato democratico e liberale, per cui l'immigrazione non la decidono quattro rasta che si sentono Robin Hood sulle loro barche, ma le decidono quattro signori in giacca e cravatta nei consigli dei ministri, non di amministrazione, dei nostri paesi. Chiaro? Questo penso. E però nei nostri salotti questa roba qua. Quindi la libertà di un liberale, della destra liberale, è andare a prendere a calci nel culo il pensiero unico e comune dei nostri salottini. Questo io penso, se non è stato chiaro. Blangiardo, per esempio, che è un demografo, nato nel 1948, ha fatto tutta la sua vita come professore universitario, insegna demografia al Politecnico di Milano, è uno dei demografi più importanti d'Italia, saluto Attilio, è stato nominato da questo governo presidente dell'Istat. Io l'ho incontrato recentemente a una presentazione dell'Auditel, mi è sembrato una persona garbata, uno scienziato dei numeri, ma una volta fece un'intervista a un giornale non Corriere della Sera e Repubblica e oggi nominato all'Istat come viene considerato il demografo leghista. Io la trovo straordinaria, uno che ha fatto tutta la vita da professore universitario e con i colleghisti, boh, boh, non lo so, magari può anche darsi, ma io penso che non abbia neanche il minimo rapporto con i colleghisti. Quindi forse è un uomo che ha un punto di vista un po' non, come possiamo dire, normalizzato nel pensiero della demografia, che non so neanche quale possa essere. Per esempio ha detto, non è detto che l'aumento dell'occupazione in Italia debba avvenire soltanto attraverso i migranti, ma potrebbe avvenire ad esempio attraverso l'aumento dell'occupazione delle donne e dei giovani. Boh, insomma, non so se sia vero o sbagliato, ma è un punto di vista non di quelli che voi leggete sempre. Mentre la Consob, per fortuna, vede in pole position non più Minenna, ma Zingales, secondo quello che leggo su Repubblica, beh, la storia di Burger King è quella con cui voglio finire. C'è una palazzina che è stata ristrutturata da una società privata, che ha speso 50 milioni per farlo, e perché l'Università di Torino non aveva i soldi per farlo e verrà dedicata con delle aule anche all'Università, ma si era riservata il diritto di avere degli spazi commerciali, che era il motivo per il quale aveva interesse di ristrutturare questa Università. Insomma, un'operazione di project financing, è inutile che ne parliamo qua diffusamente, perché il punto fondamentale è che oggi ci sarebbe dovuta essere l'inaugurazione di un Burger King e McDonald's l'è fatta sotto, forse legittimamente, perché ci sono flash mob, ragazzi arrabbiati, perché cosa io non ci potevo credere? Nel 2019 c'è gente che è arrabbiata per l'apertura di un Burger King davanti all'Università, ed esiste Egidio Dancero, Egidio Dancero, delegato del Rettore per la Sostenibilità Ambientale, già è una roba che mi fa impazzire, ma mai studiate, ma fatemi studiare, c'è un delegato del Rettore per la Sostenibilità Ambientale, mi viene veramente, io forse l'Università l'ho fatta vent'anni fa, quindi, ma mai l'idea che ci sia un delegato del Rettore per la Sostenibilità Ambientale, che dice, riguardo all'apertura di un McDonald's in un palazzo che è stato ristrutturato grazie ai fondi dei privati, sono trasecolato così si banalizza lo spazio urbano. Io vi giuro, io vi giuro, c'è ancora qualcuno che parla così. Sono trasecolato così si banalizza lo spazio urbano. Ma mangiati un Big Mac invece di dire queste stronzate. Sono trasecolato così si banalizza lo spazio urbano. E ci sono i movimenti, giustamente, i collettivi di destra e di sinistra che stanno con Egidio, perché avere Burger King vuol dire l'imperialismo americano. A me mi sembra una cosa incredibile. Qualcun altro ci dice, qualcun altro dice, qualche professore dice, bisogna stare molto attenti perché non bisogna fare dei fast food a una distanza inferiore di 400 metri dalle scuole. Cioè i fast food non possono stare più vicini di 400 metri dalle scuole, sostengono questi signori. Allora voi capite che c'è da questo punto di vista una linea rossa che lega questi che vogliono gli immigrati, quelli che sono dolenti per Sea-Watch, quelli che si incavolano perché ci siano gli applausi a Salvini nelle trasmissioni televisive e quelli che non vogliono che si aprano dei McDonald's a 400 metri da scuola. Il filo rosso è perfetto perché noi siamo quelli che invece vogliamo mangiarci i McDonald's. E quelli di McDonald's, poveracci, col solito imbarazzo dicono da noi ci sono pure gli yogurt. Ma chi se ne frega che ci sono degli yogurt? Ma posso avere la libertà di mangiarmi un McDonald's, entrare in quel McDonald's, comprarlo o non comprarlo? Cioè, in un paese normale, che non sia sovietico, ci deve essere un cazzone che mi deve dire che io non ho la libertà di potermi comprare una polpetta a 16 anni come quanto mi pare. Io la trovo una cosa enorme. Ma va bene, questo è quello che vi pare. Anch'io sono trasecolato perché così si banalizza lo spazio urbano. Va bene, benissimo. E viva la bidella che a ricreazione ti aveva fuori tavoline e pastine. Questo è fuori, non c'è dubbio. E oggi non si potrebbe fare perché oggi tu non puoi neanche portare a scuola una torta fatta in casa ma deve essere confezionata perché c'è qualcuno che ha le allergie. Vent'anni fa non c'erano, oggi muoiono tutti. Ciao!